Buongiorno a tutti ragazzi da Zebra e buona domenica. Parliamo e voglio commentare la partita di ieri tra Napoli-Lazio, un qualcosa che io non mi aspettavo, ad essere sincero. Perché, anche se ha perso, continuo a sostenere che per me Napoli è la favorita nella vittoria finale per lo Scudetto. Ma non mi aspettavo un risultato del genere da una squadra come quella della Lazio, in cui l'ho vista arretrata sia tecnicamente che fisicamente nelle prime due partite. Non mi aspettavo questo modo di affrontare la gara contro il Napoli, in casa del Napoli. Invece ci ha dato dimostrazione che questa squadra comunque, ma lo sapevamo già, ci sono momenti in cui ti fanno queste partite spettacolari, alternate da partite scandalose. Lo dobbiamo dire, è onesto. Dobbiamo anche dire che Napoli, comunque nei 60 minuti, ha dominato la gara, ha avuto il pallino del gioco, ma non è riuscito a concretizzare quello che ha creato. Ha creato una marea di occasioni in cui non è stata incisiva, secondo me molta imperfezione li sottoporta. Un qualcosa che non ha funzionato, ma ha creato. Ma credo che Napoli abbia un punto debole quest'anno che possa rendere questo campionato più equilibrato. Ed è proprio la difesa. Con la partenza di Kim, io credo che Napoli abbia perso qualcosa in difesa, qualcosa di importante. Perché ho visto che nelle ripartenze della Lazio ha lasciato praterie, praticamente. Ha lasciato, ha avuto sempre l'uso Alberto, Ciro e Mopile. Lì, per l'uno contro uno, saltare l'uomo come se non ci fosse un domani. Credo che la squadra era un po' squilibrata, troppo in avanti. Non ho visto quella squadra che ci ha abituati ad essere equilibrata, a salire e scendere tutti insieme. Infatti, ci sono stati altri gol. Sì, fuori gioco. Ma le occasioni la Lazio, dopo il sezzantesimo, il sessantacinquesimo, le ha avute tutte. Se stava sul 3-1, nulla da dire, ragazzi. Per carità, qui non c'è nessun campanello d'allarme, credo. Ci può succedere di incappare in un errore, di sbagliare. Però, occhio a quella difesa. Occhio a quella difesa. Ecco perché continuo a sostenere che quest'anno per me sarà un campionato totalmente equilibrato. Un campionato che potrà dire, fino all'ultimo, che forse o una o l'altra o l'altra ancora potrebbe vincere lo Scudetto. Perché il Milan sta correndo. Il Milan, secondo me, quest'anno non me l'aspettavo. Ma Pioli sta riuscendo in poco tempo a dare una forma, a dare un'identità a questo Milan che può essere veramente l'antagonista insieme all'Inter. La mia Juventus, per ora, non la metto e continuo a sostenere che non siamo attrezzati per affrontare un campionato per la vittoria finale. Per carità, il pallone è tondo. Ma le altre squadre, come ho sempre sostenuto, sono più attrezzate per vincere lo Scudetto. Non ci prendiamo in giro. Quindi questa partita la Lazio l'ha meritata. La Napoli, poco concreto, ma ripeto, continua ad essere per me la favorita perché ha un potenziale che l'anno scorso ha dimostrato. Certo, forse con un allenatore diverso, lì bisogna avvedere. Perché Garcià non è Spalletti. Allora potrebbe essere Garcià il punto debole effettivamente del Napoli? Questo non lo so, lo dirà il tempo, non lo possiamo dire noi. Perché comunque siamo ancora alla terza giornata. in un arco di una stagione, il passo falso, ci può stare. Ci può stare. Quindi non è nessun campanino d'allarme. Ma sicuramente la difesa per me è il punto debole di questo Napoli di quest'anno. Quindi, cari tifosi napoletani, occhio, occhio, che quest'anno veramente lo scudetto può essere veramente combattuto. Ripeto, non noi della Juventus, ma tra Inter e Milan vi possono stare le calcagna. E perché no, sta bianche sopra. Però questo, ragazzi, ripeto, siamo solo all'inizio. Non voglio trarre conclusioni. Però, fatto sta che la Lazio si porta tre punti a casa. E credo, anche, da un certo punto, anche meritatamente, però, il Napoli ha tanto da recriminare. In quei 60 minuti, che ha letteralmente dominato la gara, poteva fare molto, ma molto di più sottoporta. Molte imprecisioni, anche ho visto dell'egoismo. Potevano essere o egoismo o troppo altruismo. Quindi, in quel caso, si deve trovare un certo equilibrio. Però, le gare sono queste, il pallone è questo, ragazzi. Può succedere di tutto. Questo è il mio pensiero, come sempre, vi dico di iscrivervi al mio canale, lasciate un bel like e commentate, commentate. Ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao, forza Juve sempre.